E bella a tutti ragazzi, sono Gio e bentornati su un nuovo video di Pokémon GO! Oggi siamo qua, un vlog possiamo dire notturno, andiamo a mettere l'ultimo aroma che ci serve per completare la missione speciale dell'aroma giornaliero, quello blu, introdotto da una settimanella Vediamo, speriamo che ci spunta fuori un leggendario Allora raga, eccoci qua, andiamo a mettere l'aromino, l'aromino che... no, lo facciamo così, dai, facciamo così Aroma, eccoli, pam, messo, quindi completato, completato, sì, dovrebbe essere completata la missioncina Però camminiamo, camminiamo, ok, dobbiamo catturare 9 Pokémon per completare questo step qua Easissimo, veramente easy, secondo step su 2, stiamo a vedere se dopo ci spunterà fuori ancora qualcosina Vediamo raga, i primi Pokémon, speriamo nel leggendario E là, attenzione raga, primo Pokémon che mi spunta fuori se riesco a cliccarlo Shiny check, niente, purtroppo, Lapras, che non l'avevo ancora incontrato da questo aromino blu Tanta roba, tanta roba raga, magari questa oscurità, questa notturna, che siamo usciti in notturna Ci porti un pelo di fortuna, speriamo di sì Manca poco raga, manca poco, 3, 2, 1, no, no, neanche uno, l'ultimo È uscito, è uscito un Voltorb, non ci credo, non ci credo raga 599 punti lotta, non è uscito il leggendario Quindi adesso, allora, dovrebbe buttar fuori, comunque sia Vediamo se esce raga, allora Dai, 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 riepilogo, riepilogo Dunque, eccoli qua, allora, 20 Pokémon, 20 trovati oggi Trovati oggi molto bene raga, però Avete visto abbiamo iniziato con il Lapras che andava benissimo Porca misera, dopo siamo calati, siamo calati, li ho catturati dovrei tutti E scappati quindi penso nulla E Molga, tanta roba raga, però altri, cioè che si trovano in natura di solito più o meno tutti Questi qua, più o meno tutti, niente di nuovo, niente di nuovo Ma andiamo a vedere, allora, qui come siamo messi Ta ta ta, qui Scani Check Nada, nada direi Spero che non c'è il copyright intanto sotto Eccola qua, la sfida completata Allora ragazzuoli, andiamo a mettere Non so se ho il Fortunuovo Non so se ho il Fortunuovo, raga No, gli ho finiti, gli ho finiti Porca di quella miseria, sì, al Raid Day Praticamente gli ho finiti lì Non li shoppo, non li shoppo Andiamo a prendere così, chi se ne frega raga Chi se ne frega, andiamo a prenderci Quindi la prima, seconda e terza di un aroma misterioso Speriamo che ne arrivi una molto presto Magari la parte numero 3 Ecco qua, quindi anche qua sotto Punto di esperienza A Pokémon, chi sarà raga Chi sarà qui il Pokémon Vediamo un attimino, dai Scani Check, anche qui Attenzione Ma veramente Ma veramente Ma cosa c'entra Cosa c'entra Dodrio Tre Boh Magari visto che ha tre teste Magari che arriverà la terza parte Della missione appunto della Roma Che è quello magari il messaggino Che ci vuole dare Neanti Che boh Non lo so, comunque sia Allora Preso, preso Eccolo lì Bene raga Valutiamolo Forse che lui almeno è un 100 Ma sì Ma manco Ma manco Allora Qui quindi completata Completata Ok Devo andare poi raga A trovare Giovanni Che il Team Rocket Ci aspetta La sfida a livello 48 Che come siamo messi questa qui Ok Ecco Ancora qualcosina da fare Però Però Voglio mostrarvi Allora prima di tutto Le huevos Come siamo messi con le huevos Eccole qua Allora Uno Sette Sette che ce le andremo a schiudere Non so A breve Spero raga A breve Ma mi vedrete molto presto In questo video Succederà Di qua Allora Niente Pokémon catturati un po' Sono questi qui raga Ve li faccio vedere Ah Cimeco è uscito anche Vero giusto È uscito anche Cimeco Dall'aroma blu di prima Altri Pokémon Un po' questi qua Però Però raga L'ultimo Shainino Che avevo trovato Che è stata la sera Praticamente Tanta robetta Anche questo qua Tanta robettina Allora Eccolo qua Praticamente Ho concluso con Sette Braviari raga Perché alla sera Mi avete invitato Se troverò Mi metterò qua a fianco Anche un piccolo dettaglio Della punta della cattura Mi avete invitato Ero a Cioè Era in Colombia Canada Non mi ricordo L'invito da dove era Però Un altro Braviari Shaini 96% Un altro raga Eccolo qua Questo qua è un 14 14 15 Invece quello che mi hanno trovato Noi l'altro giorno È un No 14 15 14 A 15 In difesa Giusto Eccoli qua Quindi Ottima merce di scambio Perché no Ragazzuoli Wevos Ve le ho mostrate Ma qua Missioncine Attenzione Vediamo che ci spunta fuori da qua Dai Shaini Shaini Remoride Uh Lui ragazzi Che cacchio di missione era Devo andare a A riguardare che missioni si trova A Remoride Perché voglio Trovarlo Cromatico Raga Devo trovarlo Spero che si senta Che oggi non ho qua il microfono Anti-vento Ragazzuoli Porca di quella miseriaccia Non pensavo di dover Registrare a quest'ora Vabbè Vabbè Sempre cose da giù Ok Remoride Fai che ancora uno Lui Però Shaini Viola No Magnemite Ok Magnemite Lasciamolo lì intanto Non ci interessa Qui con le missioni Dunque Siamo a posto Ok ragazzi A postissimo A postissimo Tac Visto che manca poco Per questo evento Isui No Di qua Io andrei a camminare Raga E ci schiudiamo Queste Wevos E ci schiudiamo No Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ritornati a casa finalmente. Uova, schiuse, pronte alla schiusa. Eccole qui, ragazzuoli. Attenzione, sette huevos dell'evento Izui. Speriamo di sculare, speriamo di sculare e di trovare i nuovi. Che è Sneasel e l'altro era Growlite. Che è tanta roba, un bel Arcanine di Izui. Speriamo bene, ragazzi. Speriamo bene, dai. Non posso neanche gridare più di quel tanto. Dai, dai, dai. Eccolo qua. Bene, ragazzi. Siamo alla grandissima. Il primo è andato benissimo. Molto bene. Devo trattenermi, devo trattenermi, ragazzuoli. Non posso. Come al mio solito. Altrimenti... Io preferivo Growlite per fare appunto Arcanine di Izui. Che è bellissimo. A parer mio, raga, ma bene, 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 ottimo. Che devo dire, raga, sono così contento perché ho schiuso, sì, delle uova. Queste qua da sette chilometri, tutti loro, tutti loro. Però singolarmente, uno alla volta, magari ieri una o così, non mi sono usciti questi qua. Molto bene, raga, molto bene. Ultima, anche ultimi, era uscito praticamente quegli schifosi che... Eccolo qua, eccolo qua, uno di questi. Uno di questi era proprio lui, il Voltorb. Bene, raga, bene, sono contento, contentissimo di questa schiusa. Spero che si senta, comunque sia, visto che non posso urlare, ma d'altronde, raga, sono quasi la una di notte. Allora, vediamo un attimino. Snizzle, 11,53, quello più forte. Arcanine, Growlite, 7,36. Speriamo sono buoni. Valutiamoli, valutiamoli comunque sia. Per farli evolvere, eccoli qua, dobbiamo metterli come compagno. Ad esempio con Snizzle, percorri 7 chilometri con il tuo compagno. Ok, dobbiamo metterlo come compagno, raga. Quindi si percorre 7 chilometri. Vediamo un attimino comunque sia le valutazioni. Tutti brutti, raga, tutti brutti, però almeno possiamo dire che li abbiamo registrati, ce li abbiamo. Invece Growlite... Ah, lui no, invece. Lui si può fare la sua evoluzione immediatamente. Quasi, quasi, raga, vado a farla. Quasi, quasi vado a farla, così almeno la registriamo. Intanto facciamo... facciamo questo, dai. Tanto di caramelle ne abbiamo perché sono sempre quelle Growlite. Non sono nuovo, possiamo dire. Attenzione, raga. Arcanine di Izui. Pazzesco, pazzesco. Chissà quando lo rilasceranno Shine anche lì. Tanta bellissima robetta, raga. Attenzione. I pam. Ma che figo. Sembra veramente quasi cromatico, un leggendario addirittura, questa forma qua di Arcanine. Fantastico, raga. 17,67 punti lotta. Un po' scarsino, un po' scarsino, ma, avete visto, ne abbiamo schiusi due. Adesso, quindi, ho un Growlite e un Arcanine di Izui. Chiaramente andrò avanti con le mie schiuse, ragazzi. Adesso ne abbiamo qui. Ma guarda che quanto bello spazio Wavos. Quindi andrò a prenderne tantissime adesso. Da fare la borsa Wavos ancora piena. E poi andrò avanti a fare altre schiuse. Sperando magari un bel 100% di Izui. In conclusione, Bombers, volevo mostrarvi che ho già effettuato qualche ride di Paichia. E il più bello che mi è uscito è questo qua da 98% di Izui. Peccato che non mi è uscito Shine, sennò facevo veramente la sculata del secolo. 15, 15, 14. Però Paichia, raga, Paichia. Allora, Paichia, Paichia. Eccolo qua. Ah, è due. Sì, ne aveva già guardati. Due cromatici che la sua forma Shine è così. Rosa, raga, possiamo dire rosa. Spero di trovarlo magari anche abbastanza forte come il 98% che abbiamo appena visto. Bomberoni, fatemi sapere se voi avete schiuso Wavos da 7 km del vento di Izui. Se avete già fatto magari qualche evoluzione. Mi manca solamente Sneasel. No, l'evoluzione di Sneasel. We wild, we wild is we. E per oggi da questo video in notturna, raga, fatemi sapere se vi può piacere che lo riporterò da Gamer Joe. È veramente tutto. Mi raccomando di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati. E se il video, raga, vi è piaciuto vi invito a lasciare un bellissimo like. Gamer Joe vi saluta e ci vediamo alla prossima. Ciao, bambas!